buongiorno sono elisa direttore del nuovo punto vendita tombolo io e tutti i miei colleghi vi aspettiamo in questa nuova struttura più grande più moderna e con più servizi la pescheria la pizzeria la macelleria con il banco assistito le casse self e la spesa online sempre con lo stesso entusiasmo e cortesia signore e signori il cento diciassettesimo punto vendita di alì supermercati